Ben ritrovati, presentiamo l'Associazione Templari Cattolici d'Italia e abbiamo con noi il Presidente nazionale dell'Associazione Templari Cattolici d'Italia, Mauro Giorgio Ferretti. Buonasera, benvenuto e dietro di lui altri tre associati. A Brescia siete in una trentina, vero il Presidente? Allora, io chiedo a lei di presentarci questa associazione che è stata ricevuta anche da Papa Francesco. Volentieri. Beh, innanzitutto, come si può dedurre dal nome, noi ci ispiriamo all'antico ordine monastico cavalleresco che, diciamo, per duecento anni è stato il più importante ordine cavalleresco del Medioevo e poi finito tragicamente, come sappiamo, per motivi, potremmo dire, biechi motivi di danaro e di potere il re di Francia, Filippo il Bello, li distrusse e loro morirono da martiri cristiani. Ecco, quindi noi ci ispiriamo a loro per i loro ideali, per i valori della cavalleria cristiana che hanno portato avanti per duecento anni e che riteniamo siano indispensabili anche oggi, nel terzo millennio, recuperare questi valori, penso sia importante per tutti. Siamo presenti in tutta Italia, siamo più di 1300, da Bolzano alla Sicilia e, diciamo, non siamo solamente laici, abbiamo una settantina di sacerdoti cattolici che fanno parte anche, sono i nostri minister templi, fanno parte, diciamo, sono le nostre guide spirituali. Ecco, anche qui a Brescia, diciamo, ne abbiamo diversi. Gli scopi dell'associazione innanzitutto sono quelli di testimonianza, testimonianza cristiana, cavalleresca, cattolica. Quindi, come vedete, abbiamo un uniforme, potremmo dire, una veste che ricorda l'antica croce patente dei Templari e con questa, diciamo, realizziamo una serie di iniziative di servizio, ecco, di servizio disinteressato, gratuito, a favore della Chiesa Cattolica. Negli ultimi anni, diciamo, abbiamo svolto servizio al Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona per 11 giorni, con più di 200 nostri volontari, poi al Family di Milano e ultimamente all'ostensione della Santa Sindone a Torino, che è stata un'esperienza straordinaria. Immaginiamo, voi presidiate anche le Chiese, ad esempio il nostro Duomo, a Brescia. Esatto, esatto. Una delle cose che facciamo, purtroppo, visto i tempi che sono difficili, non solo perché ci sono pochi sacerdoti, ma mancano anche i sagrestani. Quindi, alla fine, diciamo che stiamo, in effetti, presidiando tante Chiese, cattedrali, tra cui il vostro Duomo Antico, spettacolare, devo dire, e ovviamente lo facciamo sia in occasione di eventi importanti, ma anche nei momenti in cui è più necessario farlo, insomma. Abbiamo fatto di più, abbiamo anche recuperato al culto Chiese che erano state abbandonate, profanate da gruppi di satanisti o di operatori di male. E, diciamo, nonostante abbiamo pochissimi mezzi, perché siamo autofinanziati, lei pensi che entrare nella nostra associazione prevede il pagamento di 60 euro, ben 60 euro annuali? Ecco, comunque, con questi piccoli mezzi siamo riusciti a recuperare anche diverse Chiese, recuperandole, restaurandole, diciamo, cercando un po' danaro, diciamo, da persone di buona volontà. Come si entra a far parte di questa associazione? Ovviamente noi non abbiamo barriere d'ingresso, basta avere 18 anni, essere battezzati, anche no, direi il vero, perché ultimamente abbiamo fatto battezzare anche persone che, come lei sa, magari diventate adulte e poi hanno deciso di prendere, diciamo, una strada più favorevole, diciamo, a Gesù Cristo. Quindi non c'è alcun problema, abbiamo sia uomini che donne, più di 250 sono le nostre dame, e abbiamo deciso di applicare al nostro interno una disciplina di tipo cavalleresco. Ecco, quindi non siamo un ordine cavalleresco, perché, come lei sa, l'unico che potrà decidere di recuperare un ordine templare cavalleresco è il Papa. Certo. Quindi quando il Papa deciderà e se deciderà, noi ovviamente potremmo anche fregiarci del titolo di cavalieri. In realtà, diciamo che svolgiamo però attività di servizio, diciamo, basate sul servizio personale, individuale, che sono molto vicini a quelli della cavalleria. Ora parteciperemo al giubileo, al giubileo della misericordia, e quindi ci stiamo attrezzando per, diciamo, schierare più di 400 volontari che presidiranno le basiliche vaticane a Roma, diciamo, dopo l'apertura della Porta Santa, e poi chiaramente anche le varie basiliche e cattedrali che avranno ognuno nelle varie diocesi una Porta Santa. Siamo da tempo anche a Loreto, alla Basilica della Santa Casa. Insomma, cerchiamo di ispirarci anche un po' a quello che erano le attività degli antichi templari, che scortavano i pellegrini, che li accompagnavano, in molti casi addirittura... Garantire la sicurezza, insomma. Esatto, sicurezza, ma anche, addirittura, non so, quasi un'operazione di guida, no? Per spiegare quali sono i tesori delle chiese, eccetera. E la gerarchia interna vostra come è strutturata? Ma, diciamo, come vi ho detto, siccome abbiamo deciso di applicare una disciplina cavalleresca, la gerarchia è un po' come quella degli antichi ordini, quindi c'è un capo che si chiama Magister, che è il povero presidente, e poi, diciamo, una serie a piramide di altri personaggi che, diciamo, svolgono incarichi o locali o di area. Quindi, per esempio, qui abbiamo il nostro Paolo Bettoncelli, che è il responsabile di Brescia, e quindi, diciamo, ha sotto di sé tutti quelli che sono i nostri associati della provincia di Brescia e così via. Noi stiamo con Cristo, il Risorto e con il Papa. Lei ha detto per la lotta contro il male, contro il maligno, contro Satana. Più volte proprio ha evocato, no? Satana, Papa Francesco, soprattutto è stato un Papa che ha avuto il coraggio di pronunciare, no? Bravissima. E questo è un elemento non secondario, siccome c'è ancora una gran parte di gente che non crede nell'esistenza del diavolo, invece è opportuno dichiararlo anche alle persone. Insomma, esiste questa entità maligna, come dice il Vangelo, mille volte, che è qui e cerca ovviamente di perderci e di distruggere proprio l'uomo. Quindi noi siamo col Papa e siamo anche con tutti i sacerdoti, gli esorcisti, che aiutiamo quotidianamente in tante diocesi nell'esplettamento della loro funzione. E purtroppo, sì, questi tempi hanno portato moltissimi esempi, no? Sa che ogni tanto appaiono alle cronache anche questi gruppi di satanisti che sono operativi, effettivamente fanno molto male. Quindi ricordiamo quali sono i requisiti per essere ammessi alla vostra associazione. Sì, diciamo, requisiti semplicissimi è avere 18 anni, cioè essere maggiorenni, e battezzati. E quindi è credere che sia importante, diciamo, perseguire una strada cavalleresca, una strada di sacrificio personale, anche perché lei considera che siamo tutti volontari, ovviamente tutti con famiglia, con lavoro, però si strappa alla famiglia e al lavoro il tempo necessario per testimoniare la nostra fede, la nostra fede di cristiani, cattolici e, perché no, cavalieri. Quindi, diciamo, cavalieri di desiderio, nello spirito. Ovviamente poi cerchiamo anche di collaborare con quelli che sono gli ordini cavallereschi riconosciuti dalla Chiesa, che sono il Sovrano Militare Ordine di Malta e l'Ordine del Santo Sepolcro. Vediamo qui nel vostro sito l'incontro con Papa Francesco nel sabato 12 e domenica 13 ottobre del 2013, quando c'è stata proprio la consacrazione al cuore immacolato di Maria dei Tempiali. Del mondo, del mondo, sì. Infatti è stato un momento importantissimo, tra l'altro il primo, diciamo, momento forte da quando il Papa salì al soglio di Pietro e devo dire che noi c'eravamo ufficialmente e quindi autorizzati anche con la nostra bandiera che dopo 700 anni è stato molto importante far sì che i templari cattolici fossero presenti in un momento così importante. Ecco, la Madonna effettivamente, soprattutto la Madonna di Fatima, diciamo noi cerchiamo ancora oggi di presidiarla, di scortarla quando è pellegrina per le diocesi italiane e devo dire che anche in questo momento così un po' di... in cui la gente pare essersi allontanata così dalla religione, dalla religiosità, in realtà quando si presenta la statua della Madonna vediamo tantissime persone che magari in chiesa non ce l'hanno mai, no? E quindi è ancora una forza attrattiva formidabile. Ovviamente noi come gli antichi templari siamo mariani e quindi tutto ciò che è possibile fare per scortare la Madonna la facciamo volentieri. Grazie per essere stato con noi Presidente Nazionale dell'Associazione Templari Cattolici d'Italia, Mauro Giorgio Ferretti, grazie agli altri associati e noi ci auguriamo davvero che questo nostro incontro faccia sì che altre persone si associino alla vostra associazione. Grazie, molto gentili. Grazie per essere stati con noi e buon giubileo. Grazie altrettanto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.